Quanto ha viaggiato la tua pianta per arrivare a casa tua? La pianta che hai nel tuo giardino? Quanto ha viaggiato per arrivare nel giardino del tuo cliente se sei una persona che lavora con le piante? Quanto diamo per scontato che sia facile avere delle piante? Io sono Francesco Cecchetti e questo è Giardino Rivelato, podcast dedicato all'arte dei giardini perché abbiamo tutti bisogno di un giardino. È una necessità proprio della nostra specie, delle nostre culture, di questo posto in cui confrontarci con le cose che succedono nella natura e a volte tentare di sistemarle un po' per gioco, un po' per necessità, come se fosse una poesia. Ora, una cosa che io trovo interessante, una differenza che noi abbiamo con le piante, è che noi umani, noi animali, abbiamo fatto del movimento una strategia di sopravvivenza. C'è un pericolo, scappi, ti salvi, detto in soldoni. Però una pianta come si sposta di fronte al pericolo? Non si sposta, non è che scappa, non si muove, ci sono altri metodi. Diciamo che la pianta tenta di salvarsi come individuo per quanto può e poi soprattutto tenta di far sopravvivere la specie, la propria linea genetica oppure fa in modo che ci siano delle branche che una volta rimosse possono diventare una sorta di clone, no? Sappiamo che cos'è una talea. Insomma, la pianta ha altri modi di riprodursi. Noi abbiamo imparato a spostare delle cose che sono state fatte per non spostarsi, se almeno non spostarsi secondo i nostri criteri. E quindi quella pianta che hai in casa molto probabilmente ha viaggiato per arrivare a casa tua. Magari non ha viaggiato tantissimo, però sua madre, sua nonna, il suo quadrisavolo si è spostato di migliaia di chilometri, perché magari è una pianta esotica, cioè una pianta che viene da un'altra parte del mondo. Per arrivare a casa tua, nel tuo giardino, sul tuo terrazzo, ora potrebbe sembrare una domanda strana, ma quanto ha viaggiato quella pianta per arrivare a casa tua? E' strana perché viviamo in un momento in cui ci stiamo rendendo conto, anche qui in Europa, che le cose che noi diamo per scontate nella nostra vita non sono così scontate. I segni c'erano anche prima, non serviva una guerra in Siria per ricordarsi che esiste la guerra, non serviva una guerra in Ucraina per ricordare che esiste una guerra. Insomma, di guerre e di conflitti ce ne sono tanti altri, lo Yemen, ma anche conflitti non così evidenti, conflitti sociali, le guerre con cartelli criminali, le mafie, insomma di lotte ce ne sono tante nel mondo. E non tutti vivono una vita agiata, anzi la maggior parte delle persone non vive una vita agiata. E il giardino fa parte di una cultura, almeno il giardino per come lo viviamo noi in Europa, fa parte di un modo di vivere il rapporto con le piante che viene dall'agio, che viene dalla comodità, che viene dal desiderio di esplorare il mondo, di appropriarsene, di prendere e cercare foglie, radici, frutti, e portarli altrove. E non solo portarli altrove, ma rompere l'incantesimo di un qualcosa che nasce in un luogo lontano e riprodurlo a casa come se fosse una cosa di proprietà. E una cosa che noi diamo per scontata è che magari sembra esagerata, ma un tempo non era così, un tempo c'era veramente un qualcosa di sacrale, all'idea di una pianta che veniva da un'altra parte del mondo. Ora in realtà le persone che con le piante ci lavorano magari questa cosa la capiscono ancora, perché tante piante è difficile riuscire a riprodurle in altre parti del mondo, di alcune non si trovano i semi, ce ne sono poche, sono difficili, sono un qualcosa per specialisti, diciamo. Oppure alcune piante è illegale portarle al di fuori di un paese senza determinati permessi, senza determinate procedure. Insomma, se uno vuole, se io volessi, io potrei vedere nel mondo delle piante il fatto che appartengono le piante dei nostri giardini a un mondo che è fatto di scambi, di commerci, di dazzi, di dogane, di tasse pagate, di spostamenti, di carburante da consumare. E quindi quella pianta che tu hai nel giardino, quanti chilometri ha fatto? Qual è? Quanto è costato portarla fino a lì? Quanto è costato in termini di sudore umano, di soldi, di carburante? A livello ecologico anche, no? Uno pensa anche all'impronta ecologica del giardino, non solo al fatto che mettere quella pianta poi potrà avere benefici. E quindi puoi pensare alla difficoltà nel reperire quella cosa. Una pianta erbacea, un prodotto da dare alle piante, magari adesso può avere delle difficoltà perché il posto in cui è fatto, in cui veniva fatto, è in difficoltà. Le persone che vivono lì non hanno possibilità di lavorare. Nella fine è la cosiddetta supply chain, no? E quindi tutte queste cose, facendo un passo in avanti, e come dicevamo prima, ci possiamo rendere conto che sono fatte con fatica, spesso anche in tempo di pace, che non sono una cosa da dare per scontate. E quindi tutte le cose belle della nostra vita seguono le sorti e la morale del nostro tempo, quello che noi decidiamo che è accettabile. Il prezzo accettabile è anche nascosto di quello che compriamo e utilizziamo. Delle cose belle della nostra vita, anche le piante. E la cosa terribile è che la maggior parte delle persone non può far altro che aspettare, un po' come le piante quando arriva un fulmine. Ma a differenza delle piante, tentare di spostarsi se il pericolo arriva, se gli viene consentito. Ci sono al contrario di questo delle persone per cui questa cosa non è vera, persone che continuano a poter muovere, spostare, trasportare, viaggiare, mentre tutti gli altri sono bloccati. E quindi in questo mondo, come dicevamo prima, di economia, di dazzi, di passaporti, di dogani, di scambi anche tra persone che sono dilettanti, che a livello amatoriale, no, ma un amatoriale profondo, sono un retaggio di un qualcosa nato in tempi antichi, in cui queste spedizioni riconoscevano un valore alle cose, un valore economico e non solo economico, e non erano alla portata di tutti. E chi aveva queste cose ne era felicissimo, gioiva. E quindi quando noi costruiamo un giardino, stiamo partecipando a questo mondo in cui le cose vengono scambiate, in cui esiste un qui e un altrove, in cui puoi fare alcune cose e altre sono una sfida alla natura. E quindi il giardino, ricordiamo sempre, sì è natura, ma è anche sfida alla natura. E questo è quello che mi sentivo di dire, non è una riflessione che mi è venuta di fare, perché, insomma, una delle tante critiche che si fa sulle questioni che riguardano il giardino, quando succedono cose, quando succedono, quando accadono conflitti, quando persone muoiono, è proprio questa, cioè il giardino è una perdita di tempo, e ipotizzando anche che sia una perdita di tempo, una persona deve affrontare l'eventualità che sia una perdita di tempo e tentare di capire che cosa c'è nascosto dietro, in che modo il giardino è collegato a tutti questi problemi che mi sono intorno. Anche perché il giardino, nel caso, può essere un nascondiglio anche quando non c'è la guerra. Può diventare, lo diciamo spesso, un luogo per escludere le altre persone, farle soffrire, far soffrire la natura e far soffrire, in fin dei conti, la propria anima. Fammi sapere che ne pensi di questa piccola parentesi su quello che avviene al di fuori del confine del nostro giardino con un commento qui sotto. E ti ricordo che mi puoi trovare, ci possiamo trovare su giardinorivelato.it. E a questo punto io ti ringrazio di aver passato questo tempo con me e di aver chiacchierato con la scusa dei giardini.